Torna, come ogni anno, per la dodicesima volta. Siamo ben lieti di averla portata qui nella struttura del Paracongresso di Montesilvano. E' cresciuta, è cresciuta parecchio. Quest'anno 163 artisti all'opera da tutta Italia, qualcuno da Singapore, i soliti nomi illustri abruzzesi che non mancano mai, nonché nomi illustri italiani, quali Becchi, Zattera, Rondinella, che è l'origine del tatuaggio romano, e poi quant'altro che verrete a vedere. Tre giorni in cui vedremo che cosa? Vedrete di tutto. Allora, qui potete vedere già la tattoo model Theia Salet, che sarà la madrina dell'evento, vedrete spettacoli, vedrete un'esposizione di installazioni di sculture dei Mutoid, vedrete sculture varie di artisti attinenti all'ambiente, pittura e quant'altro. e tatuaggi, artisti all'opera. Noi abbiamo fortemente voluto che questa dodicesima edizione della East Coast Tattoo Convention si potesse realizzare sul territorio di Montesilvano. E' una convention internazionale, importantissima, consolidata ormai, che porterà numerose presenze in un periodo comunque altrimenti non molto vivo per la nostra città, ed è quindi questo un motivo di orgoglio. Ci saranno tantissimi artisti, è un evento di spicco in un mondo, quello dei tatuaggi che ormai sta prendendo piede a 360 gradi nella vita quotidiana di ogni ragazzo, diciamo, ma non solo, perché comunque coinvolge persone in realtà da più giovanili fino anche più adulte.